Buonasera, bentornati o benvenuti se è la prima volta che seguite un episodio di Fotocult on Air. Io sono Jessica Barresi, sono in studio qui nella redazione di Fotocult insieme a Emanuele Costanzo, che non vedete ma è alla regia e potrebbe intervenire in qualsiasi momento, e sono collegata direttamente con la Svizzera questa sera, per la precisione con DDRUF da Ginevra, e con Marco Cortesi da Lugano. Do un caloroso benvenuto a entrambi, grazie per essere qui, ditemi se mi sentite bene, se l'audio funziona come dovrebbe. Perfetto Marco, ok. Dunque, spieghiamo subito a chi ci segue chi sono questi due signori. Didier, lo sapete, sarà il protagonista della nostra chiacchierata insieme alla sua lunghissima e spaccettata carriera fotografica, Marco Cortesi, amico da tanti anni di Didier, è un grande appassionato di fotografia, ed è diventato il fondatore di un sacco di cose, possiamo dire, Marco. È il fondatore di Lugano Photo Days, che è un importante festival di fotografia internazionale che si tiene appunto in Svizzera, a Lugano. È il fondatore di fotocontest.it, che è una piattaforma, possiamo dire, di condivisione riguardante la fotografia, e in particolar modo una community, che si occupa di organizzare dei concorsi fotografici mensili a tema. E ultimo, ma non ultimo, è il fondatore, o meglio, co-fondatore proprio con Didier, di Viaggi Fotografici, che è un progetto che, come il nome lascia intendere, è dedicato esclusivamente ai viaggi fotografici, di cui sicuramente parleremo ampiamente nel corso della serata insieme a Didier e a Marco, appunto. A tal proposito, invito tutti coloro che ci stanno seguendo a rimanere collegati fino alla fine, perché, Marco, confermami, daremmo alla fine di questa diretta un codice sconto di cui possono soffrire soltanto le persone che ci seguiranno stasera per uno dei prossimi viaggi fotografici. Esattamente. Allora, dimmi se ho dimenticato qualcuno dei tuoi tanti volti fotografici in questa, ahimè, brevissima presentazione. Una precisazione fotocontest l'ho presa in gestione, ma non l'ho creato io. Ok, ecco, allora avete fatto bene a chiederti precisazioni, perché non si sa mai. Perfetto. Puntura lo gestisci da un anno e mezzo, più o meno. Lo gestisci da un anno e mezzo, benissimo. Dunque, visto che la serata sarà pienissima di argomenti, sarà molto densa, io cerco di andare dritta al sodo, come al solito, rubo i miei 30 secondi per fare una premessa tecnica, per dire a chi ci segue che questa diretta è registrata e che il video resterà disponibile sull'home page del nostro sito fotocalt.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Fotocalt, quindi potrete riguardarlo in qualsiasi momento. Il vantaggio di chi ci segue in diretta è che potete fare domande in qualsiasi momento, perciò potete, se avete un dubbio, una curiosità, qualcosa da domandare a Didier o a Marco, scrivere nella sezione dei commenti di YouTube o di Facebook. Quindi, Didier, torno da te. Sei pronto? Vado? Vai. Allora, io so che tu nasci fotoreporter freelance e che con la tua fotocamera hai girato praticamente il mondo documentando tantissime culture, tradizioni, guerre, conflitti, crisi globali, hai collaborato con tante agenzie di stampa internazionali, hai pubblicato ben sette libri fotografici e hai ottenuto molti premi e riconoscimenti. Stasera, se sei d'accordo dei 75 paesi che hai avuto modo di visitare, e ci tengo a sottolineare 75 perché è una cifra considerevole, partirei da un paese che possiamo considerare speciale per te, che è la Svizzera, non solo perché è il paese in cui sei nato, ma perché tu alla Svizzera e agli svizzeri hai dedicato un lavoro che è durato ben 30 anni, un lavoro fotografico ovviamente intitolato appunto come vediamo in questa immagine di copertina Homo Helveticus per cercare di descrivere per immagini l'essenza dei tuoi connazionali. Adesso io comincio con te con una piccola sfida e ti chiedo dopo 30 anni di studio e di osservazione degli svizzeri come li descriveresti se avessi a disposizione soltanto tre parole per farlo? Ma in tre parole è quasi impossibile perché è un paese che nel fondo, io sono nato, ho cresciuto a Ginevra, ma nel fondo non capivo cosa era la Svizzera, perché la Svizzera è tanta diversa, tra la Svizzera tedesca, francese, italiana, ci sono tre culture e tante altre culture. E nel fondo ho fatto un viaggio per cercare di capire chi sono e chi è questo paese stranissimo dove nel fondo la cultura del compromesso ha fatto in modo che questo paese è sopravvissuto alla storia in un certo senso. Io il tuo libro non ho ancora avuto modo di sfogliarlo e di leggerlo, però ho letto, se non sbaglio, che nella prefazione c'è un intervento di uno storico svizzero che dice proprio che non c'è niente che non ci sia in Svizzera, no? E quindi forse si rivelsce proprio a questa moltitudine di cui mi stai parlando tu adesso. Ma la Svizzera è un paese, dobbiamo sempre ricordarsi che la Svizzera sull'arco dei anni e dei secoli era un paese molto, molto povero. Non c'era tante cose in Svizzera, avevamo i contadini e poi c'era una piccola aristocracia. Ma nel fondo era un paese povero, poverissimo, che ha sopravvissuto come poteva e sull'arco dei secoli, specialmente dell'ultimo, è diventato super ricco. Super ricco e di questa ricchezza oggi ormai la conoscete tutti. Quando si dice sei svizzo vuol dire sei ricco. Esattamente. Nel fondo non è esattamente la realtà. La Svizzera ha anche la sua povertà, ha i suoi problemi e poi ha questa grande diversità etnica tra le lingue. E fa che c'è una difficoltà. E' per questo che io ho fatto questo viaggio. Perché questo viaggio, questo lavoro, nel fondo, l'ho fatto un po' sul mio tempo libero. Perché io, se posso fare una parentesa, sono nato e cresciuto come fotografo andando a ICP, a New York International Center of Photography, dove lì c'era un misto dalla street photography a piuttosto la linea dei progetti, della documentary photography. E io sono un po' viaggiato tra l'uno e l'altro. mi piace lavorare a lungo su un progetto tipo Recycle che parleremo dopo. E la Svizzera è stato più un incontro, momenti, quando avevo un po' di tempo, quando non avevo lavoro. Ho sempre girato. Perché nel fondo io ho sempre una piccola macchina fotografica. Come primo è una macchina analogica, oggi è digitale. E mi diverto a fare delle fotografie. E' un piacere. Come è cominciato? Come ti è venuta l'idea iniziale? È successo qualcosa che ti ha fatto... No, è successo un incontro molto semplice. Avevo 15 anni, il mio amico Dominic ha preso la macchina del suo padre, io ho preso la macchina del mio nonno e abbiamo cominciato a scattare delle fotografie. Lui aveva, viveva una piccola casetta, aveva una camera scura, abbiamo cominciato a sviluppare. E poi mi sono divertito con questa macchina fotografica. perché nel fondo c'è un momento che si ferma. Il famoso decisive moment di Cartier-Bresson o l'indecisive moment, chiamateli come volete. Comunque quello che è interessante è che a un certo momento in questa soggettività si può decidere di dire qualcosa, di esprimere la sua opinione, quello che si risente, quello che si pensa. È quello che mi piace della fotografia. La fotografia è molto leggera. C'è un sacco di ironia in questo libro, da quello che percepisco io, dalle foto che ho avuto modo di vedere. E a tal proposito, io ti chiederei di raccontarmi l'immagine di copertina, che è già quella qualcosa di curioso, no? Che cosa vediamo? Dove l'hai scattata quella foto? Ah, l'ho scattato. C'era l'Expo 02, che già lì è un'ironia, perché l'Expo dovrebbe essere in 2001, poi è stato rimandato a 2002. Non mi ricordo esattamente le ragioni. Comunque, quello che ho scattato lì, c'erano diversi pavilioni, e questi pavilioni erano sponsorizzati dalle grandi ditte. E questo è il pavilion dell'Amigo. L'Amigo è il nostro, diciamo, la catena di supermercati, uno dei più importanti. E loro avevano creato questi grandi carelli che funzionavano un po' come, come si dice, il piccolo trenino nei parchi di animazione. La gente sedeva e si muoveva attraverso un percorso. E lì, su questa, questa è la copertina che è stata un po' tagliata, ma c'è, Emanuele, se tu la trovi, c'è dove... Dove c'è un gioco tra la mucca e tra la modernità. E a me mi piace sempre questo, di cercare di mettere insieme delle cose che non hanno senso. Allora, guardiamo qualche altra foto insieme di questo progetto prima di passare oltre. Intanto, questo conferma che tu vai sempre in giro con la tua fotocamera, perché, insomma, sono situazioni un po' particolari. Sì, le cerco, le cerco. Io mi diverto tanto. E poi è importante di godersi, di prendere il tempo. Questo, per esempio, era la prima Gay Pride a Ginevra. Era una giovane coppia di donne. Mi sono avvicinato, le ho guardato, ho sorriso, e poi mi faceva ridere questo piccolo pallone dietro. Io ho scattato la fotografia. e lì, in un poco momento. Lì, per esempio, ero a Lugano su un Lido con mia moglie e i miei bambini e in un certo momento vedo questo uomo che salta e non so perché salta con le, come si chiamano, le pinze. Le pinze. Non so perché. È divertente, comunque. Devo dire che queste immagini, almeno per me, è che non sono mai stata in Svizzera, non frequento gli svizzeri, quindi probabilmente, come altre persone, sono vincolata a degli stereotipi e quindi non mi sarei aspettata tutte queste immagini così buffe, divertenti, in un libro che racconta questo paese che magari viene associato normalmente a un atteggiamento un po' più ligio, meno ironico. quindi è stata una bella sorpresa e ancora non l'ho letto, non l'ho spogliato, quindi. No, diciamo che è un viaggio attraverso una scoperta di un paese con amore, ironia e l'occhio, l'occhio che si ferma a un certo momento. Lì, per esempio, questa immagine è molto simbolica per me perché questa è la casa dove sono cresciuto e lui è il mio amico di infanzia. Una volta, un giorno è venuto a vedermi e si era fatto questa scacchiera sulla testa e io ho detto guarda, la facciamo la fotografia e la bellezza della fotografia è che succede sempre dei piccoli miracoli, questi miracoli che i piccoli quadretti della testa si ritrovano sotto, sui piani inferiori e mi piace di provare, di giocare con la macchina fotografica, di non aver paura di sbagliare perché nel fondo è lì che diventa interessante. Assolutamente d'accordo. Allora, senti, rimaniamo in Svizzera però ci spostiamo sulle montagne perché c'è questo secondo progetto che stiamo mostrando nel frattempo mentre parliamo che a sua volta è diventato un libro che non so assolutamente pronunciare in lingua originale ma che so che si deve tradurre Vita di montagna. Sì. Allora, questo è stato il mio primo libro sui contagi di montagna. L'idea era anche questo progetto è partito su un'impulsione, un'idea. Sono andato in estate alla ricerca di questi uomini, donne che vivono sulle montagne, sulle Alpe e ho cercato di capire che prima si esistevano ancora. Esistono, oggi possiamo dire che i contagi di montagna sono piuttosto dei giardinieri di montagna. Loro curano la montagna, fanno in modo che la montagna esiste ancora, che c'è ancora presenza nei villaggi e si vivono ancora è dovuto al fatto che è un'economia altamente subvenzionata perché non si guadagni dei soldi su queste terre difficili, ma l'importanza è che tengono una presenza nei posti e mantengono la montagna, per mettere la montagna diventerà la selvatica, la foresta riprendere la sua prepotenza. Certo, io ho letto infatti che all'origine di questo progetto che risale, almeno il libro è stato pubblicato nel 1998 quindi sono passati già no? Dimmi se sbaglio perché ho fatto le fotografie dal 93 al 97 la Svizzera è piccola ma quando si parla dei montagni perché sono anche lì tutte le quattro che ho dimenticato prima quando diceva le tre lingue abbiamo una quarta lingua che è il Romosh in un piccolo angolo del canton del Grigione e io ho cercato di andare in diversi posti cercando un animale un po' tipico e poi di cercare la diversità di essere contadino dai giovani ai vecchi dalle Alpe come questa tradizionale alle Alpe moderne in estate in inverno succede poco ma li ho comunque visitato e poi c'è sempre un po' questo senso dell'umore quello che è interessante su questa fotografia si rimane l'interessante quando l'editor Casagrande ha fatto il libro mi ha detto guarda c'è una fotografia che per me è straordinaria è come il turnosol di Van Gogh come si dice girasoli di Van Gogh si girasoli la fotografia e mi sono detto ma chi sarà la fotografia e mi dice è la fotografia della mucca della come l'ho chiamata in italiano della gli escrementi ecco mi veniva buono che però per gli uccelli gli escrementi questa bomba che esplosa e dentro c'è il piede della mucca e mi ha fatto quasi ridere perché nel fondo io ci ho camminato quasi tante volte in queste come le chiamate gli escrementi gli escrementi delle mucche voilà è stato un bel lavoro è stato un lavoro ma io sempre mi piace lavorare perché nel fondo c'è un lavoro che non ho qua è un lavoro quando ero a New York ho seguito la vita di una famiglia portoricana sull'arco anche lì di diversi anni sono ancora in contatti con loro e la bellezza è che li ho seguito a casa loro e delle piccole cose a me mi piacciono la la semplicità della quotidianità gente normale e poi arrivi questi momenti insoliti dove lì facevamo una colazione e la buca arriva si fa vedere è un po' straordinaria per la colazione giustamente allora sembra ci sia una domanda da Antonio Saporiti grazie Antonio della domanda ci chiede le foto di persone hanno richiesto la liberatoria non so se si riferisce Antonio ti riferisci a tutte le foto che abbiamo visto finora o alle foto di Homo Helveticus magari in questo caso vita di montagna non saprei Didier dici tu comunque se entrambi io non ho mai chiesto la liberatoria di nessuno mai nessuno una volta ho cercato a New York con questa famiglia quando hanno cominciato a legge mi hanno detto ma sei totalmente matto Didier tu hai lavorato con noi ti conosciamo ti abbiamo accolto a casa nostra tu hai dormito qua hai balato con noi abbiamo fette le feste non firmiamo un accordo l'accordo ce l'hai perché hai fatto le fotografie e quest'idea della liberatoria sta distruggendo tutto perché nel fondo la street fotografia è una fotografia che si fa nella strada e non è una fotografia invasiva o dove rubo qualche cosa e soltanto sono i momenti e non chiedo mai non chiedo mai il liberatorio certo in questi casi magari si stabilisce un rapporto di fiducia e poi io non sono nascosto sono molto vicino ma certo in questo caso tu vivi proprio con loro si può dire che per esempio su questo posto per arrivare ci voleva camminare tre ore in montagna salendo e poi si dormiva nella piccola capana e tutto lì e tutti i diversi lavori li faccio sempre così anche il lavoro che vedremo dopo sull'arco di 2020 una fotografia al giorno le ho sempre ho fatto le fotografie quasi in strade facendo parlando con la gente e questa è la bellezza ecco quello che ti volevo dire prima è che io ho letto che alla base di questo progetto c'era questa tua domanda tu ti interrogavi e volevi interrogare anche il tuo pubblico sul futuro di queste persone e questo accadeva 25 anni fa quindi ti domandavi se questa figura sarebbe sopravvissuta o se l'urbanizzazione pian piano l'avrebbe cancellata adesso ci hai spiegato che con delle sovvenzioni riescono comunque a rimanere lì ci sono ancora sempre sempre meno perché ormai tutti i terreni i più difficili sono lasciati diventano prati foreste nei villaggi dove prima c'era diciamo non so 50 anni fa 10 contadini ne rimane forse uno un giovane o ci sono dei vecchi ma sta sta per sparire tante cose perché si deve capire una cosa è un lavoro molto manuale e poi quando si lavora con gli animali vuol dire che si lavora ogni giorno non c'è non c'è una sabata o una domenica si lavora sempre una volta che sono scesi giù c'è comunque queste mucche si devono mungere due volte al giorno e poi c'è tutto il lavoro lavorano sempre i contadini sono i genti più libri che hanno conosciuto e sono i più grandi schiavi del lavoro ci racconti questa foto che stiamo vedendo adesso che cosa sta facendo questa persona sta facendo una cosa molto semplice che il formaggio è pronto e sta per tirare fuori nei questi tessuti il formaggio ma lì c'è bisogno di una mano in più e per questo ci vorrebbero due persone ma lui fa da sé ha trovato la soluzione l'arte di arrangiarsi appunto è preziosa in questi contesti comunque io volevo fare un piccolo appunto prima di passare al prossimo progetto perché come al solito noi abbiamo poco tempo e staremmo a parlare ore e ore ma non si può ho notato recentemente questo per dire che sono fiduciosa sul futuro di queste realtà che molti fotografi si dedicano a questo tema e a prescindere dalle fotografie molte persone sono attratte da queste esperienze da questo stile di vita ci sono anche tanti giovani che ci raccontano di aver trascorso delle settimane in cima ai monti vivendo una realtà lontanissima completamente diversa dalla loro quotidianità di città quindi diciamo che forse resisteranno un bel po' e la fotografia ha in questo caso il ruolo importante di mettere in contatto queste persone che per certi versi sono un po' isolate con giovani con nuove generazioni che possono scoprire nuovi stili di vita che per ora gli sono un po' preclusi anche semplicemente per il fatto che sono nati in una città e non in cima a una montagna allora nel frattempo mi suggeriscono qui di agganciarci a proposito di contadini fattori animali a questo progetto che anche mi sembra non so se è un progetto una serie comunque di fotografie abbastanza divertente avrei potuto diventare un libro quest'anno l'abbiamo rimandato normalmente l'anno prossimo perché il mio editore ha un gran problema di schiena e poi ho detto a questo punto prendiamoci un po' di tempo sui animali perché io nel fondo ho tutta la mia vita ho fotografato gli animali l'uomo è uno dei animali di tutto questo siamo animali come tutti gli altri e non so perché ho questa fascinazione e facendo le fotografie ho trovato che spesso forse non avevamo nemmeno visti che c'erano gli animali in fotografia questa è l'unica fotografia importante perché due giorni fa era l'undici sette è l'unica fotografia delle torre del sud di Manhattan che ho e ho vissuto un anno e mezzo due anni a New York è l'unica sono animali però ecco a parte questo caso sono sempre non sono proprio gli animali ma sono animali veri animali soggettivi sono uso dell'animale e questo 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 suono dell'uomo selvatico ma che sfrutta la pianeta le distrugge mette gli animali un po' come una buona coscienza è tutto un gioco questo è io lavoravo con l'agenzia network e siamo usciti siamo andati a mangiare un panino a un certo momento uno mi dice ma guarda l'hai visto l'elefante ho alzato la testa e ho detto ma perché c'è un elefante lì e non lo so non gli posso rispondere la bellezza che in questo momento c'era questa signora e la fotografia è lì è un incontro c'è sempre io dico sempre il colpo di fortuna è importante ma il colpo di fortuna si cerca lì per esempio ero ero con un campo palestinese dove sono stato per più di tre settimane nel campo il campo di Balatar vicino a Nablus e lì eravamo sotto coprofuoco militare israeliano e questo giovane della famiglia mi dice guarda io ho questi questi uccelli tutto e pum me lo prende e questo è l'interesse io nel fondo spesso nelle fotografie o quando lavoro dico dico sempre di sì a tutto perché nel fondo non so mai cosa succederà e lì guidavo non so più se è Dallas o Houston sull'autostrada in un certo momento vedo arrivare questo van con questo animale e tutto è l'assurdità del nostro pianeta e mi piace paradosso quindi tu dici compensiamo la nostra incapacità di rispettare gli animali tapessando poi la nostra quotidianità con delle rappresentazioni di questi animali che dovremmo invece ero papà con i miei figli e a un certo momento mi giro e c'è questo signore questo è a Lugano l'avevo visto l'avevo visto l'avevo visto e un giorno mi sono detto devo cercare di fare qualcosa e mi è arrivato questo questo signore con scherzando mi dice e la fotografia è quello che mi piace è un istante lì pam non si io non sono incapace di creare una scena così ma mi arriva noi abbiamo parlato un po' di questo in un incontro che abbiamo dedicato alla street photography con un fotografo italiano che si chiama Stefano Mirabella e abbiamo parlato anche di questo della differenza tra i casi in cui ti apposti perché c'è un potenziale sfondo quindi aspetti che passi il soggetto giusto che interagisce col tuo sfondo oppure ti muovi e vai a caccia di situazioni che non ti vengono a bussare alla porta quindi devi essere pronto con la fotocamera alla mano come fai tu andare in giro tanto meglio se conosci la città in cui ti muovi perché puoi previsualizzare una scena sì dipende dipende conosce ogni tanto aiuta ogni tanto certo aiuta e non aiuta per esempio questo era sull'arco di questo progetto che parleremo dopo 2020 dove facevo una fotografia al giorno e mi sono detto non so cosa fa ho preso la macchina ho girato era al tempo del covid e ho visto questa scena e non lo so non vi posso spiegare perché cos'è cos'è la significazione ma è semplicemente fantastica perché è un non senso assoluto tutto non c'è niente che va insieme e questo mi piace è lì questa scena questa scena lì tornavo da da Perpignan da Visapolimage eravamo in macchina con dei amici tutti fotografi a un certo momento superpassiamo questo signore con il piccolo cagnolino e poi dietro aveva questa 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 barca come si chiama questo coffin in inglese una bara ah ecco no hai detto barca quindi mi sono una bara si 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 e e voilà e voilà poche fotografie e adoro questa scena sì abbastanza surreale allora passiamo dagli animali a un'altra tematica che è molto importante da quello che so nella tua produzione fotografica che è quella dell'ecologia no del rispetto dell'ambiente che studi ecco in particolar modo attraverso il tema del della gestione dei rifiuti che può essere un elemento chiave nella lettura di una di una cultura nuova no si capisce tanto di un popolo se si osserva il modo in cui si occupa della gestione dei rifiuti anche qui tu dalle tue foto hai ricavato poi un libro che si intitola Recycle e e dici un po' queste sono foto scattate in tutto il mondo no quindi siamo usciti dai confini della Svizzera a questo punto cominciamo a viaggiare sì questo questo lavoro l'ho fatto sull'arco di vent'anni vent'anni perché perché non c'erano i soldi sempre il stesso unico problema è il maledetto problema di tanti fotografi e la mancanza dei soldi lì per esempio siamo in Italia dove c'era un progetto di smantelare le macchine per cercare di usare riusare tutti tutti le vecchi pezzi quello che era interessante questo questo discorso sull'uomo ai rifiuti si deve sempre pensare che io io da bambino sognavo di camminare su una grande scarica non so cosa vuole dire forse c'è un simbolo molto importante comunque sono andato avanti ho portato sempre avanti questo discorso dei rifiuti e ho cercato attraverso è un po' un cliché perché nel fondo si è sempre lavorato su l'uomo e la macchina l'uomo e il lavoro io mi sono inventato l'uomo e i rifiuti in un modo dove diventa molto importante perché purtroppo qua per esempio siamo in Azerbaijan su la produzione di petrolio e ho girato il mondo usando i rifiuti su tutto l'arco che si va dei rifiuti a Ginevra a vivere su una scarica nelle Filippine a tutto il riciclaggio dei vecchi computer in Cina delle navi in India per il metallo della macchina delle armi le armi chimiche e poi ho lavorato anche su tutto l'aspetto ambientale che vuol dire l'uragano Katrina e poi l'impatto su i rifiuti della guerra queste sono le bombe le bombe antipersonali dove ha esploso e lì è il primo giorno dove lui sta usando una protese della gambe quello che manda il palone e lì siamo in Angola questo era a Ginevra uno dei primi servizi che ho fatto era a Ginevra e mi piace sempre quest'idea di giocare con la sordità della modernità senti penso che molte di queste foto risalgano a tanti anni fa il libro è uscito il libro è uscito forse ma tanta gente me l'ha detto forse il libro è uscito troppo primo è uscito sto guardando è uscito io so 2011 sì sì 2011 e il problema di questo libro che io non sono mai riuscito a fare una vera grande mostra su questo lavoro il lavoro perché alla fine del libro di fotografia che non ci sono è tutto un lavoro sull'impatto ambientale che si crea con la la bomba nucleare in Kazakhstan a Chernobyl all'uso della guerra e non sono mai riuscito a fare e non ho mai capito sono andato a vedere tanti tanti posti centri di fotografia museo nessuno non ha mai avuto il coraggio di far andare avanti questo progetto che dicono troppo complesso troppo troppo forte troppo disturbante è molto strano perché va esattamente nella direzione opposta a quello che stavo per dirti io stavo per dirti che molte foto sicuramente risalgono a tanti anni fa però credo che tu continui a occuparti di queste tematiche ti avrei domandato se ci stiamo incamminando verso una suefazione a questi temi l'ecologia perché ormai sono tematiche molto ormai l'ecologia ce l'abbiamo ce l'abbiamo presa adesso in piena testa in piena corpo non c'è un giorno dove non c'è un alluvione non ci sono delle piogge forti non c'è un terremoto c'è un uragano ormai 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 abbiamo giocato con con come si chiama con la pistola e la pistola ce la spariamo in piedi a testa e quindi suona molto strano che non ti abbiano ancora concesso di fare una mostra perché queste tematiche sono ritenute forti ne vediamo spesso di foto di questo tipo e c'è proprio il rischio che non reagiamo più un buon vetticius che era quest'idea sul paese con empatia ironia anche lì non sono mai riuscito perché la Svizzera nel fondo la gente non la vuole vedere su quest'arco non lo so ma non è importante perché nel fondo è importante per me l'ho fatto l'ho portato avanti sono molto contento e vado avanti certamente l'importante della fotografia e voglio dire la bellezza è chi ci vuole poco per andare a fare delle fotografie diciamo che in quel senso in quel tipo di contesto quando si parla di quelle tematiche è importante anche arrivare a un pubblico no? e smuovere un po' le coscienze diciamo che il senso credo il senso di un lavoro del genere sia anche quello di suscitare una reazione credo che davanti a un lavoro come Homo Helveticus ci si possa tra virgolette limitare a osservare anche con curiosità mentre nel caso di progetti come Recycle sarebbe il caso di assimilare un po' il problema e di agire e forse in questo senso il libro fotografico svolge un ruolo importante perché rispetto a una serie di foto che possiamo vedere ecco in un'occasione come questa stasera vediamo uno slide show il libro fotografico ce lo teniamo in casa e riesce a entrare un po' di più quindi la tematica riusciamo a farla nostra e sicuramente lo stesso accade anche con i viaggi fotografici e adesso mi racconterete insieme vediamo se riusciamo a ripescare anche Marco volevo soltanto dire ancora una cosa sulla bellezza del libro perché io dico sempre dico sempre ai fotografi giorni fotografi comprate dei libri di fotografia guardatele perché c'è un senso il libro non è non è soltanto una serie di fotografie messe così dietro di questo c'è c'è un pensiere c'è qualcuno c'è gente che ci ha lavorato perché si diceva prima è facile di fare delle fotografie è molto difficile di fare un libro di fotografia perché costa tantissimo è una grande lotta dove si cerca dei sponsor alla fine perché gli editori non esistono più non c'è qualcuno che prendi un rischio forse l'unico sarebbe Taschen ma con delle ritirature grandissime ma il libro rimane c'è qualcosa c'è la possibilità di vederlo di girarlo e questo è bello ci si torna gli si dedica il giusto tempo e ci vuole il tempo per assimilare qualcosa quindi il sito volete lo scrivo io o lo scrive allora si può avere il sito del fotografo dove ammirare le foto di montagna bellissime il sito è dieruf punto com punto com io l'ho messo adesso lo scriviamo nella chat in modo che nei commenti perdonatemi in modo che possiate vederlo tutti ad ogni modo alla fine l'ultima slide di questo incontro sarà proprio la slide con i vari contatti il sito i profili social sia di di die che di viaggi fotografici e lugano fotodays quindi li troverete anche se doveste andare via adesso quando riguarderete il video andate all'ultima slide ci saranno tutti i contatti a disposizione volevo soltanto aggiungere una piccola cosa i libri si possono sempre comprare tutto online ci sono i libri ne ho tantissimi a casa si devono comprare i libri si devono comprare e non hanno scadenza la cosa bella è questa no? che ogni progetto è sempre verde è una storia che è sempre un piacere scoprire quasi quasi la fotografia prende più valore con il tempo passando e questa è la cosa abbastanza incredibile e non abbiamo parlato del libro 2020 ne parleremo un'altra volta non è importante ma quello che era magari facciamo in tempo siamo stati bravi finora quindi dovremmo riuscire io volevo solo visto che mi stavo ricollegando al discorso dei viaggi allora ho tirato in ballo Marco ma non abbiamo finito ancora anzi se o no vediamo l'orario perché io le 21 e 36 quindi c'è ancora tempo ci possiamo riuscire no perché la cosa che volevo dire con l'arco sul libro 2020 è un progetto basato su una una cosa molto semplice e super complessa una fotografia al giorno sull'arco di un anno io l'avevo già fatto questo progetto il 1991 99 2000 lì ho cominciato questa è la fotografia del primo gennaio per questo che l'ho messa e poi ho fatto una fotografia al giorno tutti i giorni almeno una ma fotografia che avevano una forza visiva e tutte sono fatte quasi tutte sono state fatte con una piccola macchina fotografia che l'arrico che avevo in tasca e mi sono divertito era un grosso challenge ma ho portato avanti su quest'anno che diventa un anno super speciale perché nel fondo è l'arco della ecco ancora un animale della pandemia c'è il covid e la cosa che è interessante quello che volevo dire è di di fotografare il tempo moderno il tempo che viviamo perché nel fondo la macchina di oggi che sembra banale diventa fra dieci anni già un'antichità e questa è la bellezza la fotografia questo è il pieno covid l'aggetto poteva fare sport giocare al tennis su un parking per esempio a Lugano e voilà è quello che volevo dire sì noi ne parliamo spesso di questa cosa sai perché quando ci capita in redazione di discutere su argomenti come quei colori che capitano in una foto quando non scatti in bianco e nero ovviamente scatti a colori ma capita un colore che è un po' fuori luogo che attira l'attenzione in un punto che tu non vorresti mettere in risalto oppure le macchine parcheggiate i cassonetti però tutto sommato ogni tanto bisogna includere questi elementi nelle proprie foto perché quella è storia bisogna registrare un po' l'epoca in cui si vive altrimenti poi rimangono soltanto bellissime foto di paesaggi senza elementi di disturbo però non raccontano il tempo che abbiamo vissuto allora c'è un'altra domanda Renzo Bianchi ci chiede vorrei chiedere al fotografo Didier cosa pensa sia più importante per un fotografo di progetto io non so sicuro di capire la domanda allora io penso voglio intendere quando vuoi dedicarti a un progetto fotografico quali sono le cose più importanti da tenere in considerazione le cose più importanti primo di avere un'idea di un progetto secondo perché questo progetto si fa c'è un motivo personale perché nel fondo tante cose e spesso i fotografi non lo dicono è un po' una ricerca un po' sul modo di chi siamo nel fondo chi siamo perché lo facciamo qual è il nostro interesse e poi dopo una volta che si è deciso il progetto si butta dentro e poi dopo si vuol dire dedicarsi lavorare lavorare perché una cosa io mi ricordo tanto quando era ICP dei fotografi che dicevano la gente non si rende conto quanto lavora un fotografo si lavora 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 tanto non devi contare il suo tempo e deve andare avanti fino a che in un certo senso il progetto è arrivato fino a qua e non ce la fai più io so che in questo è questo il il libro in cui c'è c'è un cameo di Marco vero? c'è una foto in cui in questo 2020 Marco è in un rifletto una riflessione su una era l'inizio del covid eravamo insieme ma non è questa la foto non è uno di questi mascherati questa è la fotografia di una famiglia che ha un contratto che non so cosa facevano vestita così e voilà perché tanto non era carnevale quindi no non era per niente carnevale così e beh il bello è questo il mondo è bello perché è vario ci si diverte anche a mascherarsi quando non è carnevale allora visto che abbiamo richiamato Marco e abbiamo queste foto a colori ecco adesso siamo passate alle foto a colori abbiamo una selezione di scatti che penso siano utili per cominciare a raccontare un po' dei vostri viaggi fotografici giusto queste sono eh questa è l'Albania questa è l'Albania e l'altra sarà l'India sono soltanto cinque fotografie questo è un viaggio che ho fatto primo che avevamo l'idea con Marco perché tra l'idea di adesso e questi viaggi c'è stata la perioda del covid che ha mandato tutti i workshop eh fuori dell'idea e l'idea più o meno di quest'idea dei workshop fotografici è di partire in un posto essere insieme fare delle fotografie guardare il lavoro discutere eh parlare della fotografia mangiare bere e cercare di capire il paese e questo per me è l'idea di questi workshop quello che dicevo prima no la cosa che aiuta di più oltre ai libri eh ad entrare in sintonia con una cultura o con un soggetto e viverlo di persona con magari con un viaggio fotografico allora Marco ci spieghi un po' quanto durano questi viaggi se c'è una specie di standard o se varia la durata in base alla meta se partite insieme se parte solo uno e l'altro si occupa solo dell'organizzazione raccontaci un po' ok allora adesso i viaggi avevamo iniziato da poco a organizzarle quindi tutti quelli che sono attualmente diciamo sul sito sono più o meno una settimana quindi di solito dal sabato alla domenica successiva così sono anche un po' più facili per le persone che vogliono prendere vacanze sicuramente faremo anche viaggi magari più lunghi faremo magari anche viaggi un po' più corti in base alla distanza anche per esempio quello a Istanbul è leggermente meno di una settimana se non ricordo male ovviamente sono mete sono destinazioni scusami scusami se ti ho interrotto vai pure no appunto di ciò dipende molto dalla distanza dell'obiettivo che si ha certo sono luoghi in cui tu Didier sei già stato quindi hai avuto modo di allora certo sì per esempio l'idea il prossimo che abbiamo è il Senegal Dakar tra Dakar e San Luis io tu lo sai perché hai visto io ho lavorato tantissimo in Africa sono andato più di 30 volte in un continente che adoro e il Senegal non è tanto lontano è una cultura molto molto bella e per questo abbiamo deciso di fare questo questo workshop le fotografie lì in colore sono sull'India nel fondo abbiamo riflettuto era la combamela combamela è questo grande evento non ci siamo ancora per arrivare a questo livello lì perché lì diventa difficile in questa grande massa di gente cerchiamo di fare delle cose più diciamo più mirate più semplici per cercare di creare un po' come una comunità di gente perché io prima del covid ne ho fatto ne ho fatto diversi in Albania nelle Puglia nella Puglia nella Puglia e la bellezza che ho capito anche della gente che è venuta e mi dicevano ma la bellezza è di passare del tempo insieme parlare di fotografia fare delle fotografie ma non sarà mai fare delle fotografie come le fa un fotografo un fotoroporto che lavora per una rivista o questa piuttosto prendere il tempo di imparare anche a sbagliare perché spesso i fotografi amatori pensano che devono che devono scattare sempre bene io spesso parto e faccio veramente le fotografie orrende è soltanto come un warm up è come come i sportivi deve o come quando cucini devi fare tanta pratica tanto allenamento e la bellezza è anche di provare di sbagliare perché il più bello nella fotografia è sbagliare certo e si impara dall'errore suonerà banale però se non si sbaglia mai non si può aggiustare il tiro si parla anche di tecnica in questi workshop o vi concentrate esclusivamente su allora io ho sempre detto la conoscenza del soggetto ma poi la tecnica diciamo io non sono il più grande tecnico che esiste perché nella fotografia la banalità della fotografia è che c'è una velocità e c'è una luce e dopo c'è una quadratura una volta che si è capito questi tre elementi si può fare tutto dopo possiamo sempre parlare tecnica ma voilà la lascio la lascio a mano ecco ti faccio un'altra domanda che io dimentico sempre di fare però noi siamo come sai una rivista che si occupa di tecnica e cultura della fotografia quindi io non mi occupo della parte tecnica perciò a volte sorvolo su alcune domande però ti chiedo visto che ci siamo che cosa usi per scattare le tue fotografie prima hai nominato una Rico per il progetto 2020 però non so era la piccola la GER come si chiama Marco la mia GER io dimentico sempre i nomi c'era 3 mi sembra 4 era bellissima ne ho rotto una durante il progetto perché è caduta a terra poi io uso ho usato tante prima usavo tante la Nikon con le pelliccole e poi dopo quando ho cambiato sono andato sulla Canon ma sono macchine un po' vecchie e poi quest'anno mi sono fatto un piccolo regalo perché purtroppo io avevo una Leica M6 con un 35 in 50 ma io ho un piccolo problema un po' all'occhio e non ci arrivo più a messa a fuoco allora mi sono comprato una Leica Q2 monochrome questo è il piccolo giocato non l'ho ancora sfruttato abbastanza ma mi piace tanto perché è leggera e scusa stavo leggendo sì anch'io scusami mi è piaciuto un sacco leggere 21enne già quello ha catturato la mia attenzione però non ti interrompo finisci pure e poi leggiamo la domanda voi tre siete delle persone fantastici grazie tanto grazie allora la leggiamo adesso io mi ero concentrata su di lui non l'ho letta sono un piccolo ragazzo 21enne Peter di amante della fotografia mi sono iscritto a questo bellissimo canale giorni fa voi tre siete delle persone fantastiche grazie tu soprattutto perché leggere che un 21enne ci sta seguendo mi riempi di gioia ti assicuro che uno dei nostri obiettivi ecco proprio tramite questi nuovi canali è quello di provare a coinvolgere i ragazzi giovani perché fino allo scorso dicembre siamo stati una rivista esclusivamente cartacea però ci siamo resi conto che questo ha i suoi benefici e i suoi svantaggi la rivista cartacea ahimè non è un oggetto molto amato forse anche poco conosciuto alle giovani generazioni quindi questi nuovi strumenti che abbiamo adesso a disposizione essendo passati all'online con il nostro sito ci riempie di gioia perché ci mette in contatto con persone decisamente più giovani ci fa piacere l'idea di mettere in comunicazione le due due o tre o quattro generazioni quindi grazie grazie per il supporto e per il tuo commento Peter che cosa ti volevo domandare sì certo vai io volevo dire una cosa che è molto importante che si deve fare una grande combinazione tra l'online e il cartace perché è importante e lo ridico e lo ridico di prendere di prendere il tempo di fermarsi una fotografia e il libro per questo è la cosa più bella perché se lo può guardare a diversi momenti e questo è importante perché il problema dell'online è che passano le cose passano le cose molto in velocità è un po' come la televisione passa infatti mi hai fatto ricordare allora questa cosa magari se mi ricordo tra qualche minuto la commento però mi hai fatto ricordare quello che stavo per chiederti che se tu stampi a parte i libri stampi le tue fotografie è una cosa su cui ultimamente stiamo lavorando tanto quella della stampa fotografica sì allora io ho lavorato per anni avevo un fantastico stampatore perché io sono capace di stampare fotografie in bianco e nero fino a un certo livello poi dopo lavoravo con un fantastico stampatore ma quando ho cominciato a cambiare le carte non c'erano più le carte buone abbiamo deciso di smettere la stampa poi lui ha smesso di lavorare adesso stampo sull'Epson e queste cose e lavoro con un amico mio che tra l'altro lui era prima un fotografo poi ha stampato tanto in analogico stampa adesso è digitale e a me io adoro lavorare con questo rapporto lì perché trovo che la bellezza è come quando si lavora su un libro io faccio le fotografie faccio l'editing faccio la scelta poi dopo lavoro con gente che cercano di portare tutto questo a un livello più alto e questo è la bellezza è bellissimo allora vediamo un po' se no la regia mi indica qualcosa che non riesco a decifrare ah ok semplicemente la slide di cui vi parlavo prima penso che ci stiamo dirigendo alla fine di questo bellissimo incontro spero ce ne siano altri magari con nuove foto di Didier aspettiamo con ansia va benissimo con piacere allora Marco Cortesi come abbiamo detto magari qualcuno non ha seguito la parte iniziale è il cofondatore insieme a Didier di Viaggi Fotografici qui trovate sia il sito del del progetto appunto Viaggi Fotografici CH poi ci sono tutti i vari profili Instagram e Facebook sia di Didier che di Viaggi Fotografici ma li trovate facilmente online insomma vi escono dei suggerimenti appena cominciate a digitare l'uno o l'altro scusate ecco qui abbiamo il codice sconto di cui abbiamo parlato all'inizio quindi tutte le persone che hanno seguito questa diretta che vedranno il video indifferita in un secondo momento potranno usufruire di questo sconto anche nell'home page di Fotocult del sito fotocult.it troverete un banner che vi agevolerà nel come dire nel lucifrire di questo codice altrimenti ricordami tu Marco dove possono inserire questo codice per avere lo sconto direttamente sul sito quando si mette il viaggio nel carello della spesa per così dire c'è proprio lo spazio dove inserire il codice sconto ok perfetto quindi o sul sito viaggi fotografici oppure sul nostro sito fotocult.it che io a prescindere vi invito sempre a visitare perché ci stiamo lavorando quotidianamente e cerchiamo di offrirvi ogni giorno tantissimi contenuti su tutti i fronti Peter ci scrive di nuovo avrei tante cose da imparare da voi tre rapitemi sollevatemi di peso portatemi con voi se stellerò con le lacrime voi tre guardatemi come se nulla fosse allora Peter grazie di nuovo per il tuo supporto intanto ecco io ti consiglio di mettere tra i tuoi preferiti la pagina di fotocult la pagina di viaggi fotografici fotocontest.it perché come abbiamo detto prima esiste questa community che ti può aiutare nella tua crescita quindi se vuoi partecipare a uno dei concorsi fotografici organizzati da fotocontest.it ti basta eccolo lo avevamo detto c'era questo rischio perché qui tutti siamo pieni di gatti quindi i nostri si sono comportati bene ma il gatto il gatto di Marco evidentemente era interessato alle foto di Didier stasera dunque seguiteci iscrivetevi al canale YouTube di Fotocult se non l'avete ancora fatto iniziate a seguire tutti i nostri profili e ci sosterrete ci darete una mano a continuare a diffondere informazione e cultura fotografica grazie a entrambi è stata una serata come sempre piena di spunti interessanti saluto tutti vi ringrazio al prossimo appuntamento buona serata ciao 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 buona serata grazie a tutti